Uno della vecchia guardia, sempre presenta queste iniziative che però sono sempre importanti, non c'è mai retorica, non vi stufate mai, anzi? Anzi assolutamente, cerchiamo di dare il nostro piccolo contributo a questi ragazzi che hanno delle difficoltà e veniamo sempre molto volentieri, non solo in queste circostanze ma anche spesso durante l'anno cerchiamo di fargli sentire che li siamo vicini per quel poco che possiamo fare, comunque vediamo che li rendiamo felici e questo è importante. Qual è il rispetto più emozionante? Più emozionante è sicuramente quando questi ragazzi ti dicono che ti hanno visto in televisione e poi sei lì, ci scambi quattro chiacchiere e ti fanno anche domande normali come possono fare tutti tutti che sono i ragazzi della loro età e si cerca un attimino di fare due chiacchiere con la famiglia e cercare di dare, come dicevo prima, quel piccolo aiuto, un pensierino, una parola di conforto in un momento insomma difficile.